Voglio scusate una domanda, ma oggi è il carbonara dei? Ah no? Ah e allora carbonara non si può fare Voglio la carbonara è buona tutti i giorni, oggi vi faccio vedere la versione originale Con veramente tanto tanto amore preparata e mo vi faccio vedere prima gli ingredienti naturalmente Ingrediente principe, voglio il guanciale senza pancetta e senza niente Come formato di pasto ho scelto mezzo ricatone, tuorli d'uovo, pecorino e pepe macinato a momento fresco Naturalmente l'ingrediente principale voglio è il guanciale, è fenomenale La prima cosa che andiamo a fare, io il guanciale gli lascio anche quel po' di pepe sopra perché è fantastico Me lo vado a fettare, me lo faccio a listarelle, né troppo sottine né troppo grandi Padella, vedete, è ancora fredda perché adesso incomincia la fase più importante Che andiamo a far sudare il guanciale in padella La padella deve essere accesa a fuoco bassissimo Perché deve sudare piano piano, vedete che piano piano il grasso si sta sciogliendo E quando vedete che è diventato bello croccantino lo togliete E mettete il guanciale da una parte e il grassetto da un'altra parte Nella stessa padella però andiamo a deglassare con un poco di acqua che io non avevo ancora salato Adesso però vado a salare l'acqua, mi calo la pasta E nel frattempo mi vado a fare la crema di pecorino che viene fatta con tuoli d'uovo Pecorino romano veramente dopo, buonissimo Incominciamo a mischiare il tutto E poi dopo andiamo ad aggiungere questo grasso sciolto del guanciale con tutto il suo pepe Quindi non c'è bisogno di aggiungere pepe nell'uovo Pepe che poi dopo andrò ad aggiungere nella pasta Vedete che cremosità e che densità Questa è la densità per me perfetta Adesso in quest'acqua profumata al guanciale ci andiamo a calare la pasta bella al dente E piano piano facciamo risottare la pasta Praticamente la facciamo continuare a cuocere in padella E vedete che uscirà una cremina già buona così Io già così me la mangerei Adesso una parte di guanciale la vado a mettere dentro Vedete? Adesso prende già un bel colore, un bel sapore Adesso vedete siamo arrivati al punto che dobbiamo fare una fase molto importante Adesso la facciamo raffreddare Facciamo incorporare un po' di aria nella pasta Abbassando la temperatura Che succede? Quando andremo ad aggiungere la crema d'uovo In pratica facciamo una specie di pastorizzazione dell'uovo Quindi non dobbiamo andare a pastorizzare prima l'uovo mettendola a bagnomaria Scendendo la temperatura a 60 gradi della pasta E unendo questa crema d'uovo La temperatura sarà necessaria per far pastorizzare le uova Per farla praticamente Per renderla naturalmente salutare E wagyu, guardate qua che cremosità fantastica Mi raccomando wagyu Queste sono ricette tradizionali Sono ricette che italiane devono essere fatte così come devono essere fatte Devono essere fatte con il cuore Così come si facevano una volta E così devono essere fatte Guardate qua che bella cremosità Che bella densità Voglio inda che questa crema qua mi facesse una tuffa Mamma mi raccomando Guardate qua quante è bella A cui si stavano in una fama proprio esagerata Peccato che sono a dieta E che non posso mangiarmela Ma guardate qua io ve la faccio vedere 5, 6, 7, 8 volte Fino a quando non vi viene proprio la fame agli occhi Guardate qui La cremosità Non c'è l'effetto frittata Io ve lo faccio vedere Perché se ne vedono tante di ricette in giro E tanti errori Ma guardate qui Questa è la ricetta Quasi perfetta E spero proprio che vi piaccia Voglio mi raccomando Se vi è piaciuta Condividetela E adesso Andiamo a vedere il leone Che cosa ci dice Anche se non la può assaggiare Voglio Un abbraccio a tutti E condividete la ricetta Ciao Voglio Eccola qua La vera Versione originale Della carbonana Voglio Motivo di grande orgoglio Per noi italiani Soprattutto per noi italiani all'estero Così La dobbiamo fare Sempre Perché Voglio Pura carbonana I Luigi Scotti Di Chef in Famiglia E' a fine romana Peccato Che non mi può mangiare Perché sono a dieta Un abbraccio a tutti E fatemi sapere Se questa carbonana Era a fine romana Pura popolo Ciao Voglio Grazie